Buonasera Lalagiane! Buonasera Gione! Ciao Dari, com'è? Chiedi, chiedi com'è. Molto gine, esco, molto gine. Dari, com'è trezzo? Non mi strecco. Ci amo, mi nirò, amo, ci ci cao. Mi nirò, mi nirò, mi nirò, mi nirò, mi nirò, nirò chusmè to a casa. Mi nirò, ci ci cao, ci ci cao, ci ci ci? Yuli, ai ai ubor, mari. Am ubor, am ubor dì po casa. Adèamono iapò, adèamono iapò, lai sono maschò, stracere briagli, eh, E, cazè an, iapò, sattà cate un diott, tò rassfattere cinze. Doi maschori, doi maschori, trei thamini, thamini. Molto gine. Tre'nipòssili, tre'nipòssili. Voici il vento, voici il vento, ama ne posso il tic, nu. Am a nipòssili, am a nipòssili, zic, nu, ce, io va il vento, nu posso il vento. E, cazè? Càți nipòssili ai? Patru. Patru? Patru? Patru. Patrui fiatte, comashion tu? pipe di fatti e una papaiça, ox creati e il muhabite. Ochi, nu lo s Hum tai. Cum teacheses? Trei con du curati, se una papaiça, cut du curati srence un maschori e sesto un ficiole. Papaiça è una spelling, una inability. Handicata. Aveme una people su tre ficiole. Che vuoi dire? Il caffesino, il profilo, non è il profilo. Il confuso, il profilo, il profilo. Lo che c'è un profilo, che hanno rivolto a questa famiglia, ma ricordo che hanno fatto tutto. Gli c'è un profilo che ci sono? Ma le c'è un profilo, che non si stavano, ma non si stavano. Ma non si stavano in questo modo. Chi è un profilo? Distriptati, itrii, tutti ieri. Maia mia si diceva, itrile, itrile, itrile. Dopo da ora, non mi dici l'agafine. Adrai una madre, adrai capri, oi, adrai una pupri, striceam axichirolo. E picorara ma, picorara moderna, picorara di camp, nu di munti. Ah, no di munti. Io e aste hoara, iubenezi io e aste tu campi e aste e tu munti. Hoara iubenezi e aste camaro, aste tu campi, ninga dimirsa, si di rocastro. Ah, dimirsa, ne. Hoare a mea è a sé tu munti, hoare a mea è chionohori, hoare di nea, hoare di nea, turcciano come carnicia. Alla data hoare, l'ustim, l'ustim, hoare. Mi chcesco che l'ustim. C'è un'imitat lui di mirisare. Momma mea è a sé di mirisare. Nessun in mea è di mirisare. Nessun in mea è maù tu te creme sta a mea. Diferno di dimu ma creme sta a mea. Ah, creme sta a mea. Queda il creme sta anzi lei mi甚麼tti come carnici vuoi. Non è un'imitat lui, adesso non è un'imitat lui a mea, non è un'imitat lui che si chiesce mai. Nessun' ti ohla è un'imitat lui. È un'imitat lui, non è un'imitat lui. Non lo so, non lo so. Uno lo so che vuoi. Non lo so, ma mi sarebbe una cosa, perché io mi parlo. Noi, Romanziani, parlo così. Avdiaglietti, parlo così. Parlo così, parlo così. Parlo così parlo, parlo così. No, accettiamo noi. Pittenichai, questo va dire... Non lo abbiamo avuto. Pagliasci che è questo mettenisichiamo, cui siichiani. Pittenichai, eh? Non c'è, quando aveva le cose che aveva, poi avevo le cose che aveva. Pittenichai, quando avevo le cose che aveva, poi avevo le cose che aveva. Molto, grazie. Mi haci, mi haci. Non è a perere di buona. No, ne avete buona la Lagiani. Scheggini